Un grande evento in concomitanza della giornata mondiale del donatore del sangue si è svolto questa mattina presso l'ospedale Umberto I di Siracusa per fare il punto sulla situazione delle donazioni della nostra provincia, ricordarne l'importanza e presentare il nuovo materiale informativo per le donazioni responsabili. Abbiamo avuto anche questa opportunità oggi di ascoltare il dato di monitoraggio a livello regionale. La provincia di Siracusa è in piena autosufficienza dal punto di vista della parivolta delle sacche ma questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, quindi abbiamo guardato i dati nazionali, i dati regionali, dobbiamo anche contribuire oltremisura per poter dare sostegno a chi è più debole di noi. La raccolta è una cosa importante, la donazione è un atto di amore, noi in questa giornata vogliamo celebrare questo momento e vogliamo incentivare quanti possibili a lavorare. I giovani che sono in buono stato di salute sono un target assolutamente, è incredibile come diciamo in alcuni casi, soprattutto i giovani sportivi che stanno bene, possono più che mai fare questo gestito di amore verso il prossimo. La provincia di Siracusa negli ultimi tempi ha visto aumentare drasticamente la quantità di sangue donato e questo ha messo in moto un circolo virtuoso. Questa è una giornata importantissima perché anche io ci tengo a ringraziare la cittadinanza per l'impegno profuso perché queste donazioni non solo ci arricchiscono delle sacche di sangue necessarie per i nostri bisogni ma andiamo a dare aiuto ad altre province. Ma ancora più importante secondo me è il plasma rapporto che viene dato a un'azienda farmaceutica che in cambio ci restituisce in conto lavorazione, quindi gratuitamente si è tutta una serie di farmaci che vengono poi somministrata a tutti i pazienti in base alle prescrizioni dei specialisti e quindi abbiamo un ritorno economico ingente perché si tratta di farmaci ad elevato posto. Per cui il ritorno non è solo nelle sacche di sangue e quindi nel garantire le emergenze quelle che tutti noi cittadini possiamo immaginare ma abbiamo anche un ritorno economico, vi dico, di ampio respiro con numeri importanti. Per l'occasione sono stati esposti i progetti grafici realizzati dagli studenti degli istituti scolastici Carlo Boitila e Luigi Enavi di Siracusa e di Amicis e Quasimodo di Floridia ed è stata inaugurata la panchina del donatore con la riproduzione pittorica permanente di un bozzetto grafico ideato da Emanuela Giuffrida.